Sono Tommaso Vecchi, insegno Psicologia Cognitiva e Psicologia Sperimentale all'Università di Pavia, nei corsi di laurea in Psicologia, ma anche in diversi altri contesti didattici. Il Dipartimento di Scienze e Sistema Nervoso del Comportamento dell'Università di Pavia ha al suo interno tutte le unità che studiano il comportamento umano e le strutture cerebrali che lo determinano. Vi sono quindi le unità di Neurologia e di Psichiatria, come quelle di Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Neuroscienza e Neurofisiologia e Statistica e, in parte, Epidemiologia e Genetica Medica. Perché questo? Perché tutte concorrono a studiare quello che è questo oggetto principale del lavoro che tutti noi facciamo, il comportamento e il cervello, ed è un qualcosa che si può studiare solo in forma interdisciplinare. Noi non possiamo realmente studiarlo prendendo una sola prospettiva. E quindi è importante essere tutti insieme in un'unica struttura di ricerca e di didattica. Tutte le strutture che si occupano quindi di neuroscienze, intesa nella struttura più ampia possibile, sono quindi nel nostro comportamento. Che vuol dire partire dalle basi cellulari, cosa succede nella cellula, nel neurone, cosa succede nelle sinapsi, per arrivare al comportamento. Arrivare al comportamento vuol dire andare poi a prendere, certo, quelle che sono le funzioni cognitive, ma anche quelle che sono gli aspetti relazionali, di personalità, tutti quelli che sono aspetti associati alla normalità o la patologia, quello che possiamo vedere ovviamente in ambito psichiatrico, ma allo stesso tempo nell'ambito della neuropsichiatria infantile per il bambino, piuttosto che nell'invecchiamento, piuttosto che nella neurologia, per quelle che sono ovviamente una serie di disturbi che possono associarsi a traumi o malattie, e in un contesto il più ampio possibile, in cui gli aspetti di ricerca si intrecciano sempre più strettamente con quelli di didattica e di insegnamento. La didattica organizzata dal Dipartimento è anch'essa una grande dimostrazione di questa necessaria interdisciplinarità e collegamento fra tutti noi, perché naturalmente ci sono ad esempio i corsi laurea in psicologia, triennale, magistrale, ci sono corsi laurea in lingua italiana e in lingua inglese, che si legano però ad esempio a tutti i corsi di area medica, triennale di area medica, come può essere la logopedia, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, come il tecnico di neurofisiopetologia, così come le lauree associate ai disturbi dell'età evolutiva e a quelle che sono ovviamente i percorsi di specializzazione. Percorsi di specializzazione che sono legati alle scuole di specialità, neurologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, così come sono legati a percorsi di dottorato, e ve ne sono due, l'uno è in psychology, neuroscience and data sciences, e l'altro in scienze biomediche, così come è legato a un'offerta di master e di corsi di perfezionamento che vanno dai disturbi dello sviluppo del bambino, ai disturbi scolastici, disturbi specifici di apprendimento, fino all'invecchiamento, che vanno all'epidemiologia, alla genetica, all'intelligenza artificiale, così come ad aspetti di neuro-riabilitazione o di riabilitazione cognitiva che, di nuovo, prendono competenze da tutti gli ambiti e le unità di ricerca presenti nel Dipartimento. Il Dipartimento partecipa a numerosi progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali. Quello che è più noto e quello che è più visibile è probabilmente lo Human Brain Project, un progetto europeo, transnazionale, uno dei più grandi al mondo in questo momento, che è proprio finalizzato a creare dei modelli neurocomputazionali del funzionamento mentale, quindi partire dalle strutture cellulari, capire il loro modello di sviluppo e traslare questo non solo in quello che è il tradizionale ambito clinico di ricerca sperimentale, ma anche nello sviluppo di modelli computazionali. La partecipazione a questi progetti fa sì che il Dipartimento sia strettamente legato sia alle strutture sanitarie di ricerca presenti sul territorio, come tutti gli IRCS che ci sono ovviamente nel territorio pavese, il Mondino in particolare, ma senza dimenticare il San Matteo, la Maugeri, con cui ci sono rapporti e collaborazione, così come non vanno dimenticati quello che è un rapporto in alcuni contesti anche privilegiato con i collegi di merito, perché al nostro interno abbiamo anche un percorso didattico in lingua inglese collegato allo IUS che a sua volta è parte di una rete non solo nazionale degli istituti superiori, ma anche locale all'interno dei collegi di merito come il Borromeo, il Ghislieri, il Santa Caterina e il Collegio Nuovo. Qual è la particolarità di questo Dipartimento? Questo Dipartimento è probabilmente l'unico sul territorio nazionale dove sono presenti al suo interno sia competenti biologiche, competenze mediche, competenze psicologiche, dove è parte dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, ma allo stesso tempo dei corsi di laurea in farmacia, dei corsi di laurea in psicologia, dei corsi di perfezionamento, di specialità di area medica e non solo. Tutto questo vuol dire che davvero ci si occupa di quello che è il comportamento umano sia normale che patologico, perché in molti contesti ovviamente vuol dire occuparsi della patologia e delle modalità con cui il nostro comportamento si può modificare associato ad una malattia, un disturbo che può essere tipicamente un disturbo cerebrale o una malattia che interessa il sistema nervoso centrale e attraverso questo si vanno a sviluppare le competenze di ricerca che sono necessarie per muoversi in questo ambito, per muoversi nell'ambito delle neuroscienze che è uno dei temi centrali di questo nostro periodo storico anche e in quello che sono gli aspetti didattici che oramai non possono prescindere da prevedere all'interno di qualunque corso di laurea tutti questi ambiti di studio e quindi docenti che possono in un'ottica di collaborazione, di interdisciplinarietà e di unione delle varie competenze trovarsi ad insegnare nei diversi percorsi di studio